Eccolo qui Sixx che ha debutato la scorsa settimana Eccolo qui Sixx pronto contro Mr.P Una bellissima sfida Potenza con fragilità Eccolo qui Sixx pronto contro Mr.P Mr.P una vera prova montagna di muscoli E' difficilissimissimo da battere secondo me E sono io per Sixx anche questa volta E ci sarà fanno i precedenti Sarà molto difficile per lui vincere In grandissima forma In grandissimo sfoglio questo ragazzo E' fortissimo Tutto pronto per questa sfida Subito Mr.P A mettere le cose in chiaro Sixx lo blocca a pugno Unitariamente Giallo prende Mr.P però Attenzione Mr.P Ben drop subito Vuole mettere le cose in chiaro Mr.P E poi chiama il clutch Niente da fare però Lo lascia evidentemente Mr.P dimostra i suoi pugni Niente da fare per Sixx Niente da fare per Sixx Eh ma in questo caso è molto bravo Niente da fare Ancora Ancora Mr.P Mamma mia Di bastanti Ci sta giocando Ci sta giocando Mr.P Eh si German Super Sanche Eh si Ma in questo caso invece Nate Breger Ancoro Jumping Nate Breger Da parte D6 Che insomma Ha buonissime manovre Però Come in questo caso Prod Deve utilizzare più velocemente Non può essere così lento Magari Un'ultima volta è lenta Utilizzarle Snapman E poi Backlock Da parte D6 Prod Sbaglia quando utilizza queste manovre Sottomissione Specialmente Contro questi colossi Insomma Attenzione Mr.P Di potenza Che legnata Che legnata E poi E' lui che gliene segue E' lui che gliene segue Flamoroso Poi la lascia Poi la lascia Attenzione Vai Alta riuscita Attenzione Diamo la ricorsa Aspetta Attenzione Aspetta Barco Spaglia stavolta Bravo Six Attenzione Cosa si fa Cosa si fa Six Uh Quei master Questo è il troppo insalto Devastante Bravissimo Six In questa circostanza Ma Bravite Il suo entusiasmo Dove era molto poco Braccio adesso Niente da fare Uh Freak Slider Mamma mia Da nulla Da nulla Da nulla Grande manovra Ma Mr.P Si è incavolato Si è incavolato Forse Mr.P Vai usci up all'angolo Vediamo se è la me Questa volta Quando avrà l'angolo Quando avrà l'angolo Sbaglia Sbaglia Mamma mia Qua l'ha steso Qua l'ha steso Attenzione Bravo stavolta Mr.P Però Niente da fare Niente da fare Uniretto Uniretto Per sbagliare qui Crucifix Questa schiacciare al suo Che è bella Molto bella Interessante Però Mr.P Attenzione Bravo Six Bravo Six Sta prendendo coraggio Sta prendendo coraggio Ragazzi Se ne ha bisogno Dopo una sconfitta Un po' pesante Diciamo All'eternità Inizialmente Ora però Lui dal paletto Attenzione Mi sta piede dal paletto Ci mette un'eternità E Six Lo fa crollare Sulle zippe dei Attenzione Six Un momento fatale Forse Un'altra Legcutter Così sono annunata Lui stesso Attenzione Forse si sta prendendo La strada La Death From above C'è la morte dall'alto Non è niente dall'alto Attenzione Vai ancora Mamma mia Quanti errori Quanti errori German suplex German suplex Devastante Devastante Qui Mi sta all'angolo Forse lo aspetta Lo aspetta Six John Breger Grande manovra Grande manovra E Patezione È pronta È prontissimo Per un Monsault In salto Mamma mia ragazzi Si vuole chiudere il match Mi vuole chiudere il match Ma Mr.P lo prende Mr.K lo prende Uh Lo butta fuori Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio È il terzo German suplex Che subisce Il terzo German suplex Che subisce Ha riuscito Vediamo se stava Tramendo Six Bel match comunque Davvero molto bello Interessantissimo Attenzione Attenzione Tamba col draw kick Mamma mia Qui Six Grandissima L'opera sua Incredibile Però stavolta Attenzione Mr.P lo prende Mr.P lo prende Mi entra a fare Six Ha capito come lottare Ha capito come lottare Uh E Steve a backbreaker E poi Mamma mia ragazzi Attenzione Attenzione Forse aumento decisivo del match Forse aumento decisivo del match Niente a fare Niente a fare Sbaglia con Mr.P Sbaglia Mr.P Balla anche lui Attenzione Backside slam Attenzione Mr.P qua Potrebbe schiacciare Lo potrebbe schiacciare Lo sta devastando Devastante Devastante Attenzione Tutto pronto Tutto pronto Niente a fare Qui Dove sta attenzione Spirit kick Spirit kick Da parte Da parte di Six Ora non sei sotto missione Qua Attenzione Niente a fare E attenzione Cosa fa Cosa fa Attenzione Niente a fare Forse ha trovato Una buona Sua direttima Attenzione Attenzione Che fa qui Diretti Incredibile Poi Fa chiudere Fa chiudere Mol solto Mol solto Sì Sì Da parte di Six Attenzione Qua Attenzione Nel pregare In salto Nel pass X La sua combinazione Nidroppo In salto Giampini Nidroppo Attenzione Vuole chiudere Qua Vuole chiudere Le spalle Che fa Le spalle Che fa Che fa Troppo di Lavoroso Lavoroso Eva Mr.P No Lo devasta Qua attenzione Braccio Deso Mamma mia Ragazzi Mamma mia Mr.P Prendi L'altra Di corsa Frank e Steiner Sta nulla Sta nulla Qui Uno Due E tre Incredibile Incredibile Frank e Steiner Frank e Steiner Di questo ragazzo Di questo ragazzo Di Sizza E' probito tutto Grande Sizza Complimenti Complimenti Attenzione Ma che succede Tutto a buio diventa E si sentono Li tochi Li tochi Li tochi Li tochi Di questo ragazzo Tra SIX E Mr.P E SIX è ancora lì Attenzione SIX è ancora lì E si sentono Di questo ragazzo